Fortunello oggi si è spostato da un'altra parte della città per pulire questa piazza, intanto come si chiama questa piazza? Questa è Piazza Unicef, sarebbe la piazza dove c'è una scuola, il Carducci mi sembra, il Vittorino da Feltre, sono stamattina pieno di bambini, già da ieri che ho girato qua ho fatto parecchi sacchi e oggi ancora, non era sporchissima però servirebbe più una potatura alle piante e la sistemata ai giochi dei bambini, ora se vuole le faccio vedere, ho trovato pure un cartello stradale, insomma fogliame, bottiglie, dice che l'hanno pulita due o tre giorni fa però ancora è sporca purtroppo, io mi dedico sempre all'attivismo perché sono amante delle piante e qui servirebbe una bella potatura, la cosa più importante, le panchie una sistemata e i giochi dei bambini, sono venuto perché delle mamme mi hanno richiamato, mi hanno chiamato per, c'erano delle siringhe una settimanella fa, non ho trovato niente di questo però un po' di degrado c'è pure qua e chiederei a tutti i papà, gente volontaria che mi viena a dare una mano perché le piazze in Calabria sono tante, non solo in Calabria, dappertutto, diamoci da fare invece di passeggiare a vuoto, puliamo, puliamo perché la città ne ha bisogno. Secondo lei chi è che è sporca? Un po' tutti, non sono, danno la colpa ai stranieri ma anche agli italiani perché gli italiani non è che sono santi, cioè buttano, si vedono dalle bottiglie, pacchetti di sigarette, busto di spazzatura nascosto sotto le piante, infatti ne ho trovate tantissime sotto le piante e roba nascosta, è quello che mi interessava a me, la roba nascosta sotto le piante, cioè buttano spazzatura proprio, la mattina escono e la buttano sotto la pianta e questo non va bene e l'ho raccolto da lì, infatti queste piante sono piene di robaccia sotto, dalle sigarette, bottiglie, non come Piazza Sant'Agostino, tante piazze, ma questa anche da un po' di grado c'è, infatti se vedete è una raccolta parecchia. Crediamo che Fortunello è un volontario che ama questa città, vero? Sì, sì, lo faccio come volontariato, non bisogna nessun scopo di lucro, il mio lavoro ce l'ho, non mi serve niente, una signora mi ha portato il caffè, è gentilissima, un altro stamattina, qualcuno già mi conosce, tanti dicono ti seguo, voglio venire con te, però a fine sono sempre sola a pulire e mi dedico, quando ho tempo libero mi dedico a pulire, ho un giorno una piazza, ho un giorno un'altra. Un cittadino modello lo possiamo chiamare? Eh, io l'ho conosciuto stamattina e è proprio bravo, bravo, bravo. E niente, vedevo ultimamente qui porto il cane, vedevo che era più pulito, più... E mi diceva, oggi, stamattina l'ho conosciuto, è proprio bravo che si piglia questo impegno, che ama il verde, che ama gli animali, che ama la pulizia. Quindi lei l'ha premiato con un caffè? E quindi sì, sono andato a prendermelo io, giustamente, gli ho detto ti porto un caffè, e lui l'ha gradito, e io sono stata contenta. Quanti fortunelli ci vorrebbero in questa città? Tanti, tanti perché purtroppo le istituzioni sono quelle che sono, per cui... O abbiamo le eccezioni che confermano la regola, queste sono le eccezioni che confermano la regola.